In questo video vedremo un parametro che davvero pochissimi analisti finanziari utilizzano, ma che a colpo d'occhio ci fa capire se un'azienda sta creando o distruggendo valore per gli azionisti. Rimanete fino alla fine del video perché in questo video vedremo esattamente come scovare i migliori investimenti sul mercato azionario. Eccola qui ragazzi, è arrivata una nuova sezione che si chiama Value Generation, dove abbiamo il numero di azioni emesse dall'azienda, abbiamo lo shareholder yield e abbiamo i weighted financial. Non vi preoccupate perché in questo webinar vi vado a spiegare esattamente cosa sono tutti questi parametri e come si possono interpretare per capire se siamo di fronte ad un'opportunità di investimento ottima oppure no. La primissima cosa però che ho bisogno è che voi capiate che cosa sono le azioni. Perché ragazzi? Perché di questo argomento che parleremo oggi non se ne parla mai. Perché quando ci si approccia all'analisi delle aziende, alla valutazione dal punto di vista fondamentale, sostanzialmente si va a vedere per esempio quello che è l'andamento del fatturato, si va a vedere se l'azienda fa utili, ma non si va mai a vedere appunto cosa succede nel dietro le quinte delle azioni. E oggi capiremo appunto come fare ad andare ulteriormente più nel profondo di un'analisi appunto di un'azienda. Qui di fronte abbiamo una slide molto semplice ragazzi. Abbiamo una bottiglia d'acqua da un litro che se dividiamo in quattro bicchieri possiamo ottenere 0,25 litri a bicchieri. Molto semplice ragazzi. Abbiamo una determinata quantità che se viene divisa per un certo numero otteniamo chiaramente la stessa quantità che avevamo all'inizio ma chiaramente divisa in questo caso per il numero di bicchieri. Guardate che cosa succede all'acqua che era presente all'interno di questa bottiglia da un litro se invece di quattro bicchieri andiamo a diluire, ricordatevi questa parola, diluire la stessa acqua all'interno di cinque bicchieri. Invece di avere quattro bicchieri da 0,25 avremo cinque bicchieri da 0,20 litri l'uno. La quantità di acqua è sempre la stessa. Quello che è successo è che l'acqua è stata diluita maggiormente perché abbiamo aggiunto un bicchiere in più. Ecco ragazzi, non se ne parla mai di questo argomento ma è esattamente la stessa cosa che può succedere alle aziende quotate in borsa. Perché se al posto della bottiglia d'acqua mettiamo appunto un'azienda, facciamo finta che quest'azienda valga un billion, quindi un miliardo di dollari o un miliardo di euro, quello che volete, se questo valore viene diviso per quattro azioni, esattamente come abbiamo fatto per i bicchieri d'acqua, queste singole quattro azioni varranno 250 milioni l'una. Ma che cosa succede se lo stesso valore, la stessa azienda emette un'azione in più? Le azioni diventano cinque e il valore delle singole azioni non sarà più come prima di 250, ma sarà di 200 milioni ad azione. Molto molto semplice. Cosa è successo? Esattamente come nel caso dei bicchieri d'acqua, il valore dell'azienda è stato diluito su un numero maggiore di azioni. Capite che la primissima cosa che possiamo andare a vedere dal nuovo paragrafo che abbiamo inserito all'interno del forecasting è proprio il numero di azioni. Perché? Perché se voi provate ad immaginarvi di essere l'azionista di questa società e avete un'azione, la vostra azione, visto che il valore dell'azienda rimane sempre lo stesso, esattamente come il litro d'acqua rimane sempre lo stesso, una vostra azione vale un certo valore, 250 milioni in questo caso. Cosa succede però se il numero di azioni aumenta? Voi che siete azionisti di minoranza lo prendete in saccoccia perché il valore della vostra azione diminuisce e voi magari non ve ne siete neanche accorti perché appunto il numero di azioni è un parametro che raramente viene guardato dagli azionisti. E tutto il discorso che faremo oggi parte proprio da qui, dal numero di azioni ragazzi, perché è un parametro estremamente importante che ci fa capire se un'azienda sta facendo gli interessi degli azionisti oppure no. Nello specifico, ragazzi, qui appunto ho utilizzato Apple come primo esempio, ma vi voglio portare su un titolo del quale abbiamo già parlato in passato che è una vera e propria opportunità in questo momento e utilizzeremo oggi come esempio. Abbiamo già fatto l'analisi di PayPal diverse volte, abbiamo visto appunto che è un'azienda estremamente interessante con un fatturato e un utile che cresce, molto sottovalutata, molto solida dal punto di vista fondamentale e guardate qui che cosa ha fatto PayPal negli anni. Qui abbiamo lo storico a partire dal 2017. Ha fatto esattamente il contrario di quello che si vede in queste slide. In queste slide vediamo come l'aumento del numero di azioni è qualcosa di negativo per l'azionista perché la sua quota viene diluita. PayPal negli anni ha fatto esattamente l'opposto. Il numero di azioni è diminuito, chiaramente diminuendo cosa succede al valore delle azioni di chi è già azionista, cresce. Quindi la primissima cosa che dobbiamo imparare oggi è proprio questa. Non basta vedere se un'azienda va bene o va male ma è importante appunto capire cosa succede nel dietro le quinte, cosa succede nel backstage, perché se anche un'azienda va benissimo ma il management continua ad aumentare il numero di azioni beh il valore di quelle azioni non crescerà di fatto mai perché il valore verrà anacquato. A differenza se come nel caso di PayPal che ripeto secondo me è una grandissima opportunità in questo momento il numero di azioni scende non solo avremo un'azienda che continua a fatturare bene, che continua ad avere un utile, che continua ad avere dei bei trend ma che dà valore ai suoi azionisti anche appunto andando a diminuire il numero di azioni. Come si diminuisce il numero di azioni? Semplicemente attraverso il buyback che è il riacquisto di azioni proprie. Se un'azienda ha dei soldi extra che gli avanzano può decidere o di distribuirli agli azionisti o di investirli per sviluppo e ricerca oppure se pensa che la sua azienda è sottovalutata sul mercato come evidentemente il caso di appunto PayPal può ricomprarsi delle azioni e distruggerle. Distruggendo un certo numero di azioni il valore delle altre azioni appunto aumenta. È un po' come se nel caso dell'acqua invece di aumentare di un bicchiere andassimo e togliessimo un bicchiere. Il litro non sarebbe più da dividere in quattro bicchieri come all'inizio ma semplicemente in tre e quindi la quantità di acqua all'interno del singolo bicchiere aumenterebbe. Questo è l'opposto della diluizione del valore. È un aumento di valore per l'azionista. Quindi non solo dobbiamo andare a vedere se l'azienda che ci interessa non emette azioni ma addirittura dobbiamo vedere se appunto l'azienda distrugge alcune delle sue azioni. Va a ricomprarsi delle azioni sul mercato. Il famoso buyback che è una delle operazioni più apprezzata dagli analisti di tutto il mondo e uno dei grandi appassionati del buyback è proprio Warren Buffett che più volte ha detto che il buyback è l'operazione migliore che un'azienda possa fare. Dobbiamo capire perché le aziende emettono delle nuove azioni perché non tutte le aziende diminuiscono le azioni aumentando così il valore delle azioni che sono in mano già agli azionisti. Tenete presente che in questo caso il caso eclatante che proprio è l'opposto di Paypal l'opposto appunto di Apple che abbiamo visto è Monte dei Paschi di Siena che come vedete nel tempo ha aumentato tantissimo il numero di azioni presenti sul mercato. E quindi la domanda è ma perché se abbiamo visto che è una cosa negativa le aziende utilizzano questo sistema invece di fare esattamente il contrario? Molto semplice per tre motivi. Il primo motivo può essere che l'azienda appunto è già molto indebitata, ha bisogno di soldi per magari fare ricerca sviluppo, per fare nuovi investimenti e non vuole aumentare l'indebitamento e di conseguenza appunto emette delle nuove azioni che va a vendere sul mercato in cambio di soldi. Il secondo motivo è che, e questo succede spesso proprio in Italia, gli azionisti amano e cercano il dividendo, vogliono il dividendo, ma se l'azienda non ha soldi per pagare il dividendo spesso utilizza questo escamotage che soprattutto gli azionisti piccolini non riescono a vedere, non capiscono perché non vanno così a fondo nell'analisi di un'azienda ed emettendo nuove azioni incassano del denaro che danno ai vecchi azionisti come dividendo. Voi capite che è un meccanismo un po' stupido perché praticamente vero è che da una parte riceviamo il dividendo, ma dall'altra stiamo finanziando questo dividendo con l'emissione di nuove azioni che vanno a diluire il valore delle nostre azioni che abbiamo già in mano. Il terzo motivo è che le azioni potrebbero essere sopravvalutate. Se il management pensa che le sue azioni, le azioni della sua ditta, siano sopravvalutate, vuol dire appunto che può ricorrere appunto alle emissioni di nuove azioni sostanzialmente per incassare del denaro facile, tra virgolette, vendendo qualcosa di sopravvalutato. Avendo ben chiaro adesso questo disegno in cui ci stiamo muovendo, possiamo andare a parlare dello shareholder yield. Che cos'è lo shareholder yield? Noi siamo sempre stati abituati a parlare del dividend yield, ok? Che cos'è il dividend yield? Il dividend yield è il dividendo pagato dall'azienda fratto il prezzo dell'azione. In Italia soprattutto siamo molto appassionati del dividend yield perché quando andiamo per esempio a comprare un'azienda vogliamo vedere quanto rende dal punto di vista del dividendo proprio perché ci piace incassare il dividendo tutti gli anni. Ma il dividend yield è un dato che quantomeno è miope perché non ci dà la vera situazione dell'azienda. Infatti dividendo fratto prezzo di azione ci dà il rendimento ma non sappiamo effettivamente da dove arrivano questi soldi del dividendo perché come vi ho detto qua a volte capita che le aziende proprio per pagare il dividendo emettano delle azioni oppure si indebitino proprio per pagare il dividendo. Quindi per risolvere questo problema è stato inventato lo shareholder yield che fa una cosa semplicissima ma estremamente di valore. Prende il dividend yield, ci sottrae dal dividend yield eventuali nuove azioni emesse, aggiunge al dividend yield un eventuale buyback di azioni quindi un riacquisto di azioni proprie e va a togliere o a mettere l'aumento o la diminuzione del debito. Che cosa abbiamo? Abbiamo il dividend yield ma lo andiamo ad aggiustare in base al fatto che un'azienda possa avere emesso nuove azioni e quindi il dividend yield scenderà perché se ha pagato sì un dividendo ma ha emesso nuove azioni vuol dire che il valore delle azioni che abbiamo già in mano cala e quindi questo valore di dividend yield viene aggiustato appunto da questa emissione di nuove azioni. aggiunge invece il buyback quindi aggiunge appunto il riacquisto di azioni proprie quindi l'eliminazione dal mercato di azioni che abbiamo visto essere una cosa positiva e qualora l'azienda avesse aumentato l'indebitamento questo valore andrebbe ad aggiustare quindi ad abbassare il dividend yield qualora invece l'indebitamento fosse diminuito questo valore andrebbe appunto ad aumentare il dividend yield. Ragazzi nel forecaster abbiamo lo shareholder yield calcolato appunto dal 2017 in avanti sia il numero di azioni sia lo shareholder yield li possiamo vedere sia annualmente che per le singole trimestrali quindi molto molto interessanti. In questo caso per esempio ragazzi che cosa vediamo? Beh vediamo che nonostante Paypal come vedete non paghi un dividendo non ha un dividend yield ha uno shareholder yield del 10,54% quindi questa azienda non paga sì il dividendo ma in verità è come se pagasse un dividendo del 10,54% perché diminuisce il numero di azioni ed evidentemente diminuisce anche il suo livello di indebitamento quindi è un'azienda che per crescere non sta uccidendo non sta diluendo il valore delle azioni dei suoi azionisti se per esempio andiamo a prendere un caso come per esempio Coca Cola che è la classica azione che tantissime persone soprattutto in America comprano anche per avere un bel dividendo vedete che se il dividend yield nell'ultimo anno è stato del 3,09% quindi vuol dire che solamente grazie al dividendo abbiamo ottenuto il 3,09% lo shareholder yield è un po' più basso è al 2,62% perché ragazzi? perché guardate nel tempo che cosa è successo le azioni di Coca Cola anche se di poco infatti vedete che la differenza tra shareholder yield e dividend yield è bassa sono aumentate quindi negli ultimi anni quantomeno ripeto anche se di poco Coca Cola non ha fatto il bene degli azionisti tant'è che come vedete oltre appunto avere un numero di azioni in aumento anche lo shareholder yield ha un trend in calo e infatti vedete che qui c'è scritto shareholder yield decreasing sta diminuendo poi ovviamente come sempre ragazzi c'è la spiegazione di tutto quindi se volete entrare un po' più nel dettaglio se volete vedere le formule lo potete vedere direttamente sul forecaster vi faccio vedere un caso che purtroppo non è completissimo perché manca l'ultimo dato ma lo risolveremo a breve tantissime persone in Italia per esempio comprano le azioni di Enel perché appunto hanno un dividend yield molto alto 6,76 quindi comprare le azioni di Enel fa sì che abbiamo un dividendo molto alto ma andiamo a vedere nel tempo cos'è successo guardate lo shareholder yield in verità ci accorgiamo che lasciate perdere il 2023 che c'è un piccolo problema di dati che risolveremo nelle prossime ore il dato mancante di Enel mi aveva preso un po' in contropiede ma in fase di montaggio del video sono andato a controllare il bilancio di Enel è stato pubblicato ma da nessuna parte ancora è stato pubblicato il numero di azioni quindi siccome il bilancio è stato pubblicato proprio di recenti immagino che sia questione di giorni questo dato verrà aggiornato e lo troverete quindi aggiornato anche nel forecaster però vedete che per esempio nel 2022 lo shareholder yield era del meno 22,98% sì il dividendo l'abbiamo beccato ma è un pochettino come se Enel si fosse indebitata avesse fatto dei movimenti nel bilancio e in pratica ci ha ridato i nostri soldi quindi non è tutto oro quello che luccica spesso e volentieri quando c'è un dividend yield molto alto bisogna effettivamente andare a vedere se poi questo dividend yield corrisponde ad un vero valore aggiunto che viene effettivamente dato agli azionisti e ce ne sono di casi ragazzi perché per esempio se andiamo a prendere un titolo per esempio Whirlpool quotata al Nise che la gente, gli investitori comprano perché effettivamente ha un dividend yield interessante in verità ci sono anche casi migliorativi perché guardate per esempio nell'ultimo anno lo shareholder yield è del 27,61% quindi in verità il valore che noi otteniamo non è solamente quello del dividendo ma è molto più alto proprio perché come vedete il numero di azioni è costantemente sceso e vedete per esempio nell'ultimo anno che lo shareholder yield effettivamente è molto molto alto è in crescita e a parte casi veramente eccezionali che esistono come il 2020 e nel caso anche qui nel 2022 lo shareholder yield è sempre stato più alto rispetto al dividend yield abbiamo visto come un numero di azioni crescente sia deleterio per noi piccoli azionisti abbiamo visto come lo shareholder yield ci aiuta a capire da dove arrivano i soldi che l'azienda paga sotto forma di dividendi ma non è finita qui perché sempre grazie al numero di azioni possiamo vedere se un'azienda anno dopo anno diventa più o meno efficiente che cos'è questo grafico qui che vediamo in questo caso con questi histogrammi che crescono è molto semplicemente il fatturato il net income quindi l'utile il free cash flow quindi i soldi che ci sono in cassa e il margine il gross profit il margine che fa l'azienda diviso il numero di azioni cosa vuol dire? questo è un dato estremamente importante perché mettiamo che aumenta il fatturato ma allo stesso tempo aumenta anche il numero di azioni voi vedreste gli histogrammi che scendono perché da un lato sì magari il fatturato è salito ma noi siamo investitori dobbiamo sempre vedere se c'è una crescita e una generazione di valore per noi azionisti se il fatturato sale ma sale anche il numero di azioni potrebbe essere che l'efficienza stia calando invece come vediamo per esempio per paypal non solo il numero di azioni sta scendendo non solo abbiamo uno shareholder yield in crescita ma se andiamo anche a vedere il fatturato l'utile netto i soldi che abbiamo in cassa quindi il free cash flow e il gross profit diviso per il numero di azioni vediamo che il trend è assolutamente positivo questo vuol dire che l'azienda anno dopo anno sta diventando sempre più efficiente e ovviamente troverete casi come paypal tanti soprattutto in America dove l'azienda è assolutamente debole infatti che cosa abbiamo fatto ragazzi come sempre vi abbiamo agevolato e nello specifico abbiamo creato 4 voci robust ovvero l'azienda sta facendo buyback quindi diminuisce il numero di azioni lo shareholder yield aumenta ed è in trend positivo e i weighted financial quindi queste voci qua di destra sono in crescita quindi robust è il top quindi come promesso all'inizio del video come facciamo a scovare le migliori opportunità di investimento sul mercato azionario? molto semplice dobbiamo andare alla ricerca di titoli che siano sottovalutati dal punto di vista fondamentale e per questo ci viene in aiuto il forecaster dove troviamo tutta la sezione del calcolo del fair value se il titolo risulta essere sottovalutato ma allo stesso tempo robust o resilient quindi robusto o resiliente beh quella probabilmente è un'ottima azienda che rappresenta un ottimo investimento da fare in borsa Paypal perché mi piace tantissimo ragazzi? perché è un'azienda sottovalutata del 117% secondo i modelli di calcolo che oramai già conoscete e nonostante questo nonostante appunto il titolo il prezzo sia molto basso perché se andiamo nell'overview vediamo che dal massimo del 2021 il titolo è praticamente solo sceso in verità ci troviamo un'azienda che sta facendo tantissimo per gli azionisti sta dando un valore incredibile perché il numero di azioni scendono quindi vuol dire che secondo il management queste azioni sono sottovalutate aumenta lo shareholder yield quindi vuol dire che l'azienda sta dando valore ai propri azionisti e l'efficienza aumenta perché guardate dal 2017 il fatturato, il net income, il free cash flow e il gross profit diviso il numero di azioni aumenta quindi vuol dire che ogni anno l'azienda diventa più efficiente e abbiamo sempre più fatturato rispetto al numero di azioni sempre più utile rispetto al numero di azioni infatti secondo me PayPal è veramente un'azienda top sulla quale io infatti sto continuando ad investire come vi avevo già detto tempo fa estremamente interessante vi faccio vedere per esempio LVMH che come sapete è un titolo estremamente interessante dove proprio sugli ultimi minimi avevamo investito ed era un'azienda sottovalutata e anche in questo caso troviamo un'azienda che è robust ragazzi, robusta perché il numero di azioni è in calo dopo una piccola salita ecco guardate sempre i numeri non guardate solo la salita o la discesa guardate bene i numeri perché è importante sì la direzione ma anche il numero di azioni è importante in questo caso comunque numero di azioni in discesa quindi segnale positivo per noi azionisti shareholder yield anche in questo caso positivo perché è maggiore di un bel punto percentuale qua un po' meno rispetto al dividend yield quindi non solo ci paga un dividendo ma lo shareholder yield è anche superiore vuol dire che crea più valore e appunto l'efficienza aumenta anno dopo anno ok lo vediamo qua quindi parere robust perfetto titolo che è ancora sottovalutato ma era molto più sottovalutato appunto se andiamo a vedere se vi ricordate qua in questa zona era molto sottovalutato tant'è che vi ricorderete se mi seguite da un po' che proprio sulla rottura di questo minimo io ho detto impossibile che questa azienda faccia dei nuovi minimi perché cioè ha un valore incredibile il mercato non se ne sta ancora accorgendo infatti poi boom è partita quindi ragazzi qui abbiamo davvero tutto tutto a disposizione per capire effettivamente cosa sta succedendo sul mercato perché tenete presente ragazzi che i prezzi delle azioni non si muovono a caso nel lungo termine sono sempre mossi dai fondamentali se andiamo a vedere per esempio un caso particolare in questo momento che è proprio Apple perché Apple in questo momento sta un po' soffrendo e non sta facendo per esempio i nuovi massimi come sta facendo Nvidia oramai da un bel po' di tempo e sono tutti un po' preoccupati per le sorti di Apple vedete che appunto è un pochettino ferma praticamente dall'estate scorsa ok è in questa fase laterale andiamo a vedere perché insomma l'azienda comunque cresce è anche un pochettino sottovalutata è molto solida perché ragazzi abbiamo veramente un'azienda estremamente solida ma andiamo a vedere un pochettino il numero di azioni scende è sempre sceso quindi va benissimo perché si è un po' fermata perché guardate qua ragazzi mentre l'efficienza di Apple continuava a crescere anno dopo anno di diversi e svariati punti percentuali ok vedete 2017 2018 nel 2023 rispetto al 2022 si è un po' fermata questo porta anche lo shareholder yield sta calando quindi unito al fatto che oramai tutti nel mondo hanno praticamente l'iPhone e crescere a quei livelli diventa importante non hanno più portato avanti il progetto dell'auto elettrica l'hanno abbandonato ne abbiamo già parlato anche di questo e questo ha spaventato un pochettino il mercato tutto questo unito ci dà un feedback appunto il nostro tool che è Steady vuol dire fermo ok l'azienda è efficiente perché continua a rimanere efficiente ma ha smesso di migliorare i suoi parametri ha smesso di migliorare la generazione di valore per i suoi azionisti quindi continua a rimanere efficiente perché tra l'altro Apple ha un dividend yield di 0,56 uno shareholder yield di 3,67 quindi comunque c'è un plus valore quello che sta preoccupando gli azionisti è un pochettino il trend di questo shareholder yield e il trend appunto dell'efficienza finanziaria quindi ragazzi è sempre tutto 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 nei numeri perché la nostra cara Nvidia che ci piace tanto è stata molto molto interessante e sta spaccando perché guardate qua il numero di azioni dopo qualche anno che è salito ma di poco perché da 2,4 billion siamo arrivati a 2,5 billion quindi poche rispetto alla capitalizzazione di questa azienda comunque negli ultimi due anni sono calati lo shareholder yield comunque se paragonato al dividendo è interessante perché il dividend yield è 0,02 bassissimo e lo shareholder yield è 0,67 ma guardate l'efficienza anno dopo anno questa azienda migliora la sua efficienza e ci sono sempre più fatturato c'è sempre più utile c'è sempre più free cash flow e c'è sempre più margine per ogni singola azione quindi questo è un grafico che ci fa vedere che il valore per gli azionisti aumenta anno dopo anno la cosa importante ragazzi però il feedback che vorrei vi portaste a casa oggi è questo ovvero tenete presente che nel caso in cui troviamo un'azienda che dal punto di vista fondamentale è sottovalutata a livello di solidità non ci dà preoccupazioni se la troviamo che è robust o resilient che sono i due feedback verdi che diamo beh ragazzi è estremamente interessante perché siamo di fronte ad un titolo che nonostante sia basso in borsa sta generando valore per gli azionisti ed esattamente come per esempio era successo per le WMH che vi avevo fatto vedere ed esattamente come era successo per Ferrari che avevamo comprato proprio su un bel minimo perché l'avevamo comprato perché al tempo adesso è un pochettino sopravvalutato Ferrari era sottovalutata e ragazzi guardate l'efficienza di Ferrari il numero di azioni cala quindi vuol dire che le azioni che hanno già in mano gli azionisti aumentano comunque di valore abbiamo un shareholder yield appunto positivo e ragazzi l'efficienza aumenta sempre quindi ogni singola azione fa più soldi in termini di fatturato in termini di utili in termini di free cash flow in termini di margine rispetto all'anno prima questo è il feedback davvero interessante che vi voglio dire poi ogni singolo caso è a sé stante questo dato come anche praticamente per tutti gli altri dati che abbiamo non può essere utilizzato per i titoli bancari e finanziari perché hanno tutto un altro tipo di parametro possiamo però vedere il numero di azioni per esempio Montepaschi cosa hanno fatto nel tempo Montepaschi per stare a galla per trovare sempre più soldi hanno sempre fatto degli aumenti di capitale quindi hanno emesso nuove azioni e lo si vede per incassare denaro cosa è successo che se voi avevate 100 azioni di Montepaschi praticamente il vostro valore nel tempo è stato sempre diluito e guardate tra l'altro appunto l'efficienza che si può vedere anche in questo caso è lo shareholder yield che non può essere utilizzato per i financial però vedete che negli anni non solo è cresciuto il numero di azioni e quindi gli azionisti l'hanno preso in sacoccia ma anche tutti i parametri quindi fattura net income sono letteralmente peggiorati quindi questo è un indicatore potentissimo che ci dà la possibilità davvero di scovare delle gemme sottovalutate super efficienti vi faccio vedere per esempio un titolo che a me piace tantissimo e proprio oggi andrò a comprare in borsa che è adobe adobe guardate è sottovalutato in questo momento del 23% quindi molto interessante ha una bella storia di fatturato e utile in crescita estremamente interessante è estremamente solido ragazzi con un alto anzetta score di 13 piotroski score di 9 il massimo e un bene isch m score che non ci mette nemmeno il dubbio che i bilanci possano essere abbelliti guardate qui robust azioni che scendono shareholder yield che cresce e efficienza che cresce anno dopo anno estremamente estremamente interessante vi faccio un esempio per esempio di airbus che è l'azienda francese che crea e produce gli aerei vedete che le azioni crescono costantemente lo shareholder yield ha una tendenza ribassista e l'efficienza non migliora vedete che c'è un trend in decrescita e infatti è weak questa azienda è weak e appunto poi è un qualcosa che si vede anche qui in alto dividend yield questa azienda ci dà l'1% di dividend yield quindi ci paga un dividendo tutti gli anni ma in verità è come se ce lo pagassimo noi quel quel dividendo lì è come se prendessimo i soldi appunto da noi stessi adobe spoiler si secondo me è estremamente interessante perché è un'azienda che cresce con un fatturato che cresce sottovalutata dal punto di vista fondamentale estremamente solida dal punto di vista fondamentale e robusta dal punto di vista della value generation se ti è piaciuto questo video ti invito a provare il forecaster terminal trovi il link in descrizione e ti invito anche a partecipare al webinar dedicato al forecaster terminal che tengo ogni martedì alle ore 11 anche di questo webinar trovi il link in descrizione iscriviti anche se non puoi partecipare in live così ti mandiamo la registrazione